Pioli out? Anche oggi scomparsi? Guffetto? Pensavi che facciamo come voi contro il Bologna? Segnatevi questi cinque nomi, Simic, Gimenez soprattutto, Gimenez soprattutto, Ciacatraore, Bartesaghi e Zeroli, perché saranno il futuro del Milan. Milan 4, Cagliari 1, si passa ai quarti di finale, a differenza di Napoli-Frosinone 0-4 e a differenza di Inter-Bologna 1-2, con mezza squadra di primavera in campo. Immenso Stefano Pioli per l'ennesima volta, per il coraggio avuto, perché se non fosse andata bene stasera, apriti cielo, invece è stato un Milan spet-a-co-la-re, spet-a-co-la-re, cinque sillabe, ripetiamo, spet-a-co-la-re. Tu mi puoi dire col Cagliari, sì, ma che formazione avevamo in campo? Già c'era gente che, lo so, perché nei social elego, come mette questo qua stasera vuole prendere le mazzate se ne vuole uscire alla Coppa Italia. 4, 4, ha fatto una delle partite più belle della stagione il Milano oggi. Ma avete visto che fraseggi? 70% possesso palla. Incredibile! Il Cagliari ha avuto una-una, una-una, vera occasione all'inizio, dopo tre minuti, testa di Petagna, parata di Mirante in ancolo, grande parata, grande intervento del bell'Antonio. E all'ultimo, che ha segnato al novantesimo il 3-1, prima poi del 4-1 di Rafa, che oggi era ispiratissimo quando è entrato con tutta la curva che lo ha acclamato, su quel tiro di Azzi, che ha beccato il piede di Luvumbo e la palla è andata in porta. Però non c'è stato mai un momento realmente in cui il Milan questa sera abbia potuto preoccuparsi, perché abbiamo avuto il dominio assoluto dell'incontro, dove tutti, tutti, tutti bravi, cioè se noi guardiamo la formazione all'inizio con un 4-2-3-1 con Mirante appunto, Calabria a destra, Simic, cioè Simic sembra, a parte l'errore, perché l'errore è nato da lui, del gol del Cagliari, però 3-0 e un ragazzo gli si può anche mettere una pietra sopra e fargli una carezzina, anche perché secondo me ha fatto una buona partita. Teo Hernandez devastante, devastante, è stato lui che ha messo la palla dell'1-0 di Luca Jovic, è stato lui che gli ha messo la seconda palla per il 2-0 a Luca Jovic, immenso tanto in mezzo che quando ha cominciato a fare le sue scorazzate, davvero un grande Teo Hernandez. Ma a sinistra ragazzi, la vera rivelazione stasera è stato Jimenez. Jimenez, io da tempo dico ragazzi, ma guardate, sembra che le cose io, è come se avessi le visioni. Stamattina vi parlavo del discorso del decreto crescita, che bisogna dare alle società i famosi bonus invece di dare gli stranieri, dateli alle società per far sì che poi dai vivai crescano giocatori come i Bartesaghi, come i Zeroli, come appunto escono fuori i Jimenez, i Ciacatraore. Questo devi fare, questo devi fare, perché questi ragazzi sono affamati, sono lì con quella grinta, quella garra che tanti non hanno quando arrivano a certi livelli. E quindi puntiamo su sti giovani senza paura. Abbiamo un settore giovanile, una primavera che è fantastica, dei giocatori davvero eccezionali. Sto Jimenez, che tra l'altro arriva dal vivaglio del Real Madrid, tra le altre cose. Ma l'avete visto con che personalità lì sulla sinistra, che tra l'altro lui poi è destro anche di piede. Il secondo tempo pensavo che una volta ci fosse stato il cambio di Calabria con Florenzi, avesse spostato poi nel suo ruolo naturale a destra Jimenez e Florenzi, visto che è già abituato anche a sinistra, metterlo a sinistra. Ma pure a sinistra sto Jimenez ha fatto cose egregie, è stato uno dei migliori in campo. Poi davanti Reinders, ormai Tigiani sembra quasi che alla fine, perché eravamo 3-0, diceva togliamolo perché è uno di quelle pedine che non toglieresti mai dallo scacchiere di Pioli. Grandissima partita anche stasera di Tigiani e a lato un grande Adli. Adli veramente ha smistato palle destra-sinistra, recuperato dietro. Mi è piaciuto tantissimo questa sera anche Yassen. Davanti, Ciuqueze, ha fatto tanto, tanto movimento. A volte si perde un po' troppo, poi su sti stop. Allora, Ciuqueze, io capisco che tu sei mancino, ma anche il destro lo devi utilizzare, figlio mio. Tante palle che gli potevano arrivare sul destro per stopparle e andare avanti, lui cerca sempre di fermarla con la sinistra e tante volte perde sta palla. Poi Luca Romero. Luca Romero, ecco, tra i nuovi che sono stati messi in campo, probabilmente ha lottato, e c'è da dire che il ragazzo ci ha messo impegno e tutto, ma non ha brillato rispetto ad altri, come per esempio anche Ciacca Traorei, che poi ha trovato questo gol. Il ragazzo è veramente felicissimo e sono contento per lui, davvero una bellissima soddisfazione. Lì davanti, Luca Jovic. Luca Jovic, se noi ritroviamo Luca Jovic dell'Eintrac Francoforte, siamo a posto per l'attacco. Avremo solo bisogno, almeno nella sessione di adesso, non ci sarebbe bisogno cercare un altro attaccante, semplicemente per la prossima stagione, ovviamente perché Olivero Sparviero poi cominceranno da 37 a essere il 38 primavera e avremo bisogno di un attaccante. Ma in questo momento Luca Jovic è in forma, lo sto dicendo da tanto tempo, doppietta di quelle pesanti questa sera che fanno capire che lui c'è e può giocare anche dall'inizio. Io da quanto tempo dico anche, ma perché non mettiamo anche le due punte? Perché Jovic insieme a Giroud vanno bene, si complementano uno con l'altro. Uno come Giroud fa palo della luce che si porta presso un paio di difensori e Jovic può anche inserirsi per poi sfondare, visto che lui i numeri per fare gol ce li ha. Quando in forma, Jovic i gol li fa e stasera grande doppietta. Poi a un certo punto ci sono stati i cambi, il secondo tempo è entrato Bello De Nonna per Calabria, Bartesaghi al posto di Gimenez, Zeroli al posto di Reinders e Capitano America per Luca Romero e infine Raffa Leao per Ciaka Traore. Raffa Leao stasera è entrato ispirato. Si vede che questa settimana, dopo anche i fischi che aveva ricevuto da parte del pubblico contro il Sassuolo, lo hanno rinvigorito e questa sera è entrato e alla fine aveva voglia di fare gol e il gol l'ha fatto. Gol alla Raffa Leao che chiude proprio il match sul 4-1. Prova vincente e convincente di questi ragazzi terribili perché davvero stasera io ho detto ma guardate, ma avete visto come gioca i fraseggi 1-2, come facciano a girare la palla, il tic-tac, il tic-tac, cioè un Milan bellissimo stasera, veramente, cioè per gli interpreti che erano in campo che non erano titolari, ce n'erano tre, c'era solo Calabria, Reinders e Teo Hernandez sin dall'inizio, tutti gli altri erano o panchinari o tre della primavera, quindi grande coraggio da parte di Stefano Pioli nel mettere una formazione che ai più, non dirmi di no, storceva un po' il naso e dice ci vediamo se stasera la stecchiamo e invece non ha steccato proprio niente, ha fatto una partita incredibile, quindi Pioli is on fire, la 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 Pioli is on fire, boom! e per i Pioli out l'esonero sempre la prossima volta, perché Stefano Pioli ce l'ha in pugno questa squadra, la sua unica sfiga è che c'ha uno staff dietro che avrebbe dovuto prenderlo a calci nel culo da tempo, di medici e preparatori, perché lui ha in pugno la situazione e in più è riuscito a reinventarsi anche stasera una squadra da zero, cioè proprio la capovolta come un calzino ed è riuscito a fare una grandissima prestazione al Milan stasera complimenti davvero al mister, complimenti ai ragazzi, complimenti davvero a tutti perché io questa sera me ne andrò a dormire con il sorriso, ma al di là del Cagliari, al di là del fatto che comunque abbiamo passato un turno in Coppa Italia importante perché andiamo ai quarti di finale, quindi un'altra partita è un attimo che ti trovi in semifinale per giocarta, quindi io lo sto dicendo da giorni, con l'Inter fuori, il Napoli fuori, ci siamo noi e la Juve come squadra che se la possono giocare a certi livelli e quindi giochiamo c'è la Stacop Italia e si è visto che stasera il Milan ha voglia di giocarsela fino in fondo, quindi noi il nostro triplete, a differenza di altri che giocheranno per il con uno scudetto che è già apparecchiato per loro, la Champions sicuramente la vinceranno come a Istanbul, noi zitti zitti siamo lì, terzo posto consolidato in campionato, Coppa Italia andiamo ai quarti di finale, ci giochiamo alla nostra Europa League, il campionato, la stagione è ancora tutto in essere e quindi a tutti i criticoni che ancora non capiscono una beata fava di calcio, perché io lo dico da tempo che non capiscono una beata fava di calcio, purtroppo non avendo una squadra sempre al completo, il nostro Stefano Pioli, ha dovuto sempre fare il salto in banco, ha dovuto fare il mago e inventarsi a volte anche delle formazioni che può darsi a volte e abbia fatto ovviamente degli errori, chi non ne fa, però se incontra la quadra e probabilmente questi ragazzi potrebbero dare uno stimolo in più anche a quelli che potrebbero sentirsi già arrivati e stasera è stato un grande esempio quello che è successo con Raffa Leao, perché poi quando è uscito Ciacca Traorese l'ha preso l'ha fatto anche ballare, avete visto l'ha preso in braccio come un bimbo, ecco magari ha bisogno di guardare Raffa Leao con che voglia entrano in campo questi ragazzi ed è un bene che magari si aggreghino già da subito alla prima squadra, noi che tanto abbiamo bisogno in questo momento che c'è il mercato, sembra che Terracciano il difensore del Verona ormai sia cosa fatta, è ritornato Gabbia, ma questi ragazzi qua, Simic io me lo tengo in pianta stabile, Zeroli me lo tengo in pianta stabile, Bartesaghi me lo tengo in pianta stabile, Ciacca Traore pure, per non parlare ovviamente di Gimenez che ripeto questa sera sembrava che era un titolare del Milan da anni, un ragazzo del 2005, un diciottenne ragazzi, è su questo che dobbiamo puntare, lo sto dicendo da tempo, dobbiamo puntare sui giovani, il Barcellona, qui a Barcellona, lo dico da tempo, aveva fatto grande il Barça grazie a giocatori che venivano dalla cantera, come Xavi Hernandez, come Iniesta, come Messi, come Piquet, come Puyol, come Vittor Valdez, come Busquet, questo dobbiamo fare, puntare sui nostri giovani, perché abbiamo un settore giovanile, una primavera, forte, quindi avere il coraggio, come stasera ha avuto Stefano Pioli, di metterli lì, sul pezzo, perché i ragazzi sanno giocare a calcio, e stasera lo abbiamo dimostrato, e non era una partita semplice, perché l'abbiamo visto in Coppa Italia, il Napoli si è preso 4 pere in casa da una neopromossa come il Frosinone, anche il Cagliari è una neopromossa, però il Frosinone è arrivato primo l'anno scorso di Serie B e il Napoli era campione d'Italia, quindi occhio, non prendete una partita, no, 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 non è una partita di Coppa Italia, una partita che abbiamo giocato sì di Coppa Italia, ma con soli 3 titolari in campo e ben 3 primavera dal primo minuto, quindi complimenti a Stefano Pioli, complimenti ai ragazzi, continuiamo su questa strada, speriamo che serva anche ad esempio per Empoli domenica, Milan 4, Cagliari 1, un bacio a tutti e a tutti, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque, bellissima serata, bella lì, andiamo avanti così, ciao!